Oh, giovani amici di Facebook, oggi parliamo ancora di un prodotto Creative, in particolare di una roba veramente stranissima per il 2016 addirittura, cioè di una scheda audio. Non so se vi ricordate le vecchie schede audio che si montavano dentro al proprio PC, c'erano appunto le Sound Blaster, erano quelle più famose, create da Creative Lab, quindi ho una versione vecchissima. Fatto sta che sono però tornate tra virgolette di moda le schede audio esterne come questa presentata da Creative lo scorso agosto durante Gamescom, per supportare appunto le nuove feature particolari che hanno certi giochi, in particolare il Virtual Surround 7.1, piuttosto che modalità diverse più particolari di audio, soprattutto sempre localizzato, la conversione da stereo a quello che viene chiamato il 3D positional audio. Tutto questo viene fatto da dei processori dedicati che in questo caso sono appunto presenti su delle schede esterne come questa di Creative che semplicemente si collegano via USB al proprio PC, al proprio Mac, addirittura Android e iOS sono supportati, ma anche per esempio una PlayStation 4 o una Xbox One, indicato, infatti qui sotto, tutta la compatibilità. Fondamentalmente l'audio entra da una parte e poi esce dall'altra o verso delle cuffie o verso delle semplici casse. Ok, scusate il più buone ma andava detto, perché ritrovarsi una scheda audio USB fa veramente strano, andiamo per la scatola e vediamo com'è dentro, visto che comunque il prezzo di listino basso non è, da quello che ho capito è veramente super fighetta questa schedina, veramente super figa. La confezione ha della schiuma nella parte superiore, per cui tutto si mantiene veramente bene, se intravedete la scheda in sé è di un nero opaco molto figo, è tutto in metallo, diciamo esteticamente, e soprattutto è veramente super pro, nel senso che i materiali sono ottimi, mi rimangio però al metallo, in realtà non mi sembra metallo, comunque è fatta molto bene. Questo è chiaramente il volume principale, questa è l'uscita cuffie a cui collegare le proprie cuffie da gaming, diciamo così, o comunque da ascolto, questo è invece dove collegare un eventuale microfono esterno. Sulla parte di sinistra abbiamo un tasto che abilita e disabilita quello che viene chiamato scout mode, da creative, vediamo se riesco a mettere a fuoco, ecco. Scout mode non è altro che una modalità particolare di audio, in cui vengono aumentati i volumi dei suoni più lontani da voi, per intenderci, dentro a un FPS magari state, diciamo, scoutando appunto, e volete sentire meglio a distanza, ecco, allora che attiverete questo scout mode premendo questo tasto e la decodifica audio 3D si preoccuperà di aumentare il volume ai suoni più lontani da voi, in modo tale da avvisarvi prima se qualcuno si sta avvicinando in soldoni. SBX è invece un tasto che serve per switchare tra un profilo e l'altro di appunto SBX, che è questo software di creative che viene fornito insieme ed è compatibile ovviamente con questa scheda, potrete fondamentalmente andare a impostare diversi profili e poi richiamarli con questo tasto, premendolo si passerà da un LED all'altro, qui 1, 2, 3. Sulla parte invece posteriore c'è l'ingresso barra line-in sia ottico che normale jack 3,5, l'uscita barra line-out idem ottico e jack 3,5, magari per collegare delle casse esterne per esempio, la connessione micro USB per collegare la scheda al proprio PC o PlayStation 4 e questa invece è una porta USB fornita in più che fondamentalmente va a sostituire la porta che avrete occupato con questa scheda. Non c'è altro direi, a parte il marchio Sound Blaster X. Andiamo a vedere anche i cavi che sono forniti insieme a questa scheda. Sotto a quel porta scheda c'è questo cavo rosso che avevo visto nelle immagini promozionali, molto fighetto, che poi non è altro che il cavo micro USB per collegarla al PC, al Mac o alla PlayStation 4. Non è altro che un normalissimo cavo da USB standard da micro USB, quindi questo andrà collegato qua e poi quest'altro andrà collegato al vostro PC o PlayStation 4. Viene fornito anche un cavo ottico, vedo, cosa che non sapevo, comodo. Questo può essere comodo, tra l'altro è il cavo ottico perfetto proprio per le connessioni di questa scheda, cioè di qua la versione 3.5 finisce proprio in queste porte qua. Invece da quest'altra parte è una connessione standard quadrata ottica che trovate per intenderci sulla PlayStation, mi sembra, sui normali televisori solitamente c'è questa porta qua, piuttosto che anche su certe schede madri moderne. Che altro c'è? Direi cartaccia, in questo caso forse dovrò leggermi qualcosa a sto giro, perché non è proprio esattamente tutto quanto super chiarissimo. Un po' di caratteristiche tecniche mentre girano un po' di immagini fighette, quindi al suo interno si chiama Sunblaster XG5, è molto simile, se ve lo ricordate o se l'avete già vista, alla vecchia E5, che era più generica, perché questa invece è proprio dedicata al gaming, da qui G5. Ha al suo interno un processore multicore, un chipset multicore Soundblaster AXX1, supporta il True Surround 7.1 Uncompressed, virtual chiaramente, ha supporto alla conversione da stereo a 3D positional surround, che può essere veramente molto comodo, soprattutto nei giochi, per esempio in prima persona. Oltre a questo è anche un ottimo amplificatore EDAC da 24 bit, 96 kHz, ha un'uscita da 120 dB, e un'impedenza per le cuffie veramente bassissima, 2,2 Ohm, e arriva fino a 600 Ohm. Tra l'altro questa impedenza si può cambiare andando ad agire su questo gain qui, per cui se avete delle cuffie particolari potete regolare direttamente il gain, tra un generico low e un generico high. È compatibile, come vi dicevo, con il software Blaster X Acoustic Engine, creato da Creative ovviamente, che gira su Windows, credo esista anche una versione Mac, ma non sono sicuro, non voglio dire sciacchezze, in ogni caso è chiaro che questo tipo di scheda è dedicata veramente agli utenti Windows e al gaming in generale. Ve la consiglio se avete una PlayStation 4, perché il supporto è sempre USB nativo, oppure se avete chiaramente Windows. È comunque compatibile anche con l'Xbox One attraverso il cavo ottico fornito, e addirittura è compatibile anche con gli smartphone, per cui potete collegarle tramite un jack 3.5 al vostro device iOS o Android e diventa appunto un ottimo amplificatore per le cuffie. Non sarà comodissimo portarsi dietro tutto l'ambaradana ogni volta, però questo è. Se vi è piaciuta questa scheda audio esterna di Creative e se vi piacciono i miei unboxing in generale, fate like, fate share e ci vediamo al prossimo video di Incauto Unboxing. Ciao ragazzi!